Ben ritrovati telespettatori di Cilento Channel, nuovo appuntamento con la rubrica nutrizione e benessere sempre curata dal dottor Andrea Ricci, biologo nutrizionista. Oggi parleremo di un frutto appartenente alla categoria dei frutti di bosco e cioè il lampone. E allora il lampone perché mangiarlo e poi raccontiamo anche ai nostri telespettatori quali... ...le proprietà. Sì, allora il lampone è in effetti un frutto proprio di questo periodo perché la pianta a cui appartiene, che tra l'altro è una pianta di origine europea, appartiene dalla famiglia delle rosacee, li produce proprio in questo periodo, cioè dalla fine dell'estate all'inizio dell'autunno. Ci sono anche alcune varietà che vengono prodotte anche in primavera. Il lampone, quello più conosciuto e anche più consumato ovviamente, è quello della classica colorazione rossa. Però ne esistono anche di neri, gialli, viola. Per 100 grammi apportano pochissime calorie, solo 34. Sono ricchi di acqua, di sali minerali come potassio, calcio, fosforo, manganese, ma anche vitamina C, vitamina A e vitamina K. Quindi per le poche calorie è ovviamente indicato per chi è a dieta. Lo si può utilizzare sia come spuntino, come frutto a colazione. È abbastanza ricco di fibre, quindi aiuta a spezzare il senso di fame e aiuta a regolare anche il transito intestinale. È molto ricco di acqua, come dicevamo, ma anche di potassio, quindi ha un buon effetto diuretico, oltre che anche dissetante e rinfrescante. È oggetto di studi soprattutto per dei possibili benefici che può apportare all'apparato cardiocircolatorio, non solo come in termini di diminuzione del colesterolo LDL, ma anche come aumento della fluidità del sangue. Ha un basso indice glicemico, quindi può essere consumato anche dai diabetici. Contiene vitamina A, che è importante per la salute degli occhi, ma soprattutto è molto ricco di antiossidanti, in particolare anche di antocianine. Ciò ci aiuta a contrastare i radicali liberi, a diminuire lo stress ossidativo e quindi a prevenire anche l'invecchiamento. Sono importanti anche le proprietà cosmetiche, soprattutto per quanto riguarda i benefici, soprattutto per quanto riguarda le unghie, i capelli e la pelle. C'è anche qualche controindicazione per chi ne facesse un uso eccessivo? Allora, come uso eccessivo sicuramente magari un po' le fibre possono dare un po' di irritazione all'intestino e tra l'altro sono sconsigliate anche per chi soffre proprio di colite e di diverticolite, proprio perché all'interno contengono tutti dei piccoli semini. Però in una porzione, diciamo, su intorno ai 100 grammi, quindi può essere comunque non può causare questo tipo di problemi. Altre controindicazioni ovviamente riguardano per il contenuto di vitamina K chi fa una terapia anticoagulante, contengono ossalati, quindi sono controindicati per chi soffre di gotta o di patologie renali e poi ci sono ovviamente le possibili allergie quindi all'alimento. Bene, noi ringraziamo il dottor Andrea Ricci per i preziosi consigli e diamo appuntamento ai nostri telespettatori alla prossima settimana.